È una giornata importante conclusa con grande soddisfazione perché il ministro Matteo Salvini si è preso degli impegni davanti al tessuto impenditoriale. Noi siamo un territorio che conta oltre un milione di persone, oltre 108 mila imprese, rappresentiamo il 52% dell'esportazione intera della regione Lazio per cui occorre per le imprese, per superare anche questo doppio sciocca sia pandemico che energetico, occorre in qualche modo avere la possibilità di sviluppo e di potenziare le infrastrutture sia materiali che immateriali. Oggi è una grande partecipazione, apprezzo molto la disponibilità del ministro che è venuto sui nostri territori. C'è stato un ampio dibattito con le associazioni territoriali, con i rappresentanti del Comitato Operatore, ma non si è parlato soltanto del collegamento a Roma Latina, si è parlato dei collegamenti tra le due province, si è parlato della Fondi Ceprano che è uno sbocco essenziale per il mercato ottofuticolo di fondi, per esempio per il secondo mercato d'Europa, si è parlato della pedimentale di fondi, si sono presi degli impegni, se si sono anche valutati dei tempi, io posso registrare una grande soddisfazione.